allora questa è una fesseria che voglio fare innanzitutto salve a tutti sfido iotobi a giocare a fraccetta con me perché ho visto un video di otobi non so se tutti voi lo conoscete ma penso di sì insomma lui è un vero youtuber famoso è andato a giocare a tirare al assegno col fucile no io tobi ti sfido a giocare a fraccetta con me facciamo una partita al meglio delle tre delle cinque o delle tre va bene uguale così facciamo che conoscere molto di più questo sport andate a scrivergli sotto che lo sfido caro iotobi io ti sfido a fraccetta saluta a tutti